un tempo l'agricoltura era molto più semplice di così l'agricoltore raccoglieva e poi rimpiantava i prodotti del ciclo vegetale ma nel XX secolo le cose si sono un po' complicate le macchine agricole e i prodotti chimici si insediano nei campi e nasce l'agricoltura intensiva la produzione esplode e la natura ne porta le conseguenze l'agricoltura diventa un'attività inquinante e molto lucrativa per le imprese agrochimiche che producono i diserbanti e gli insetticidi sono gli interessi economici forse a spiegare il silenzio del potere pubblico sempre alla ricerca di maggiori profitti le industrie agrochimiche cominciano ad interessarsi agli OGM gli organismi geneticamente modificati ma che cos'è un OGM? è un organismo vivente nel quale si introduce artificialmente un gene esterno per conferirgli delle nuove proprietà prendiamo questo mais questo è il suo DNA che sarà modificato adesso bisogna cercare l'organismo che contenga il nuovo gene da inserire animali, piante, batteri il catalogo degli esseri viventi è immenso questo no, questo neanche... ah sì, questo batterio va bene si isola il gene si introduce all'interno del DNA del mais e il gioco è fatto con la trasgenica il ciclo vegetale va in cortocircuito per millenni è stata la terra a produrre le sementi oggi sono i laboratori oggi si producono essenzialmente due tipi di OGM quelli che producono loro stessi gli insetticidi e quelli che resistono ai diserbanti molto bene, ma c'è un problema a forza di essere esposti, le erbacce e gli insetti sviluppano una resistenza a questi prodotti mutano per poterli eliminare bisognerà aumentare il dosaggio dei prodotti chimici inoltre subentra il rischio di contaminazione genetica i geni degli OGM possono modificare il patrimonio genetico di altri organismi senza contare che non esiste oggi nessuno studio affidabile sull'impatto sanitario a lungo termine degli OGM per assicurarsi le risorse genetiche mondiali le imprese agrochimiche hanno acquistato per ritorsione le piccole sementi oggi le sementi sono brevettate se il contadino vuole rimpiantarle da un anno all'altro deve ricomprarle e anche il diserbante e il pesticida ad esclusione del processo di produzione delle sementi la dipendenza finanziaria del contadino è totale le multinazionali dell'agrochimica impongono gli OGM al mondo dopo gli Stati Uniti e l'America del Sud adesso è la volta dell'Asia e dell'Africa del Sud prima il sistema agricolo sembrava più o meno questo oggi i campi sembrano piuttosto così la multicultura e la biodiversità dei paesi del sud sono state inghiottite dalle monoculture il cui solo scopo è fornire proteine vegetali agli allevamenti intensivi dei paesi sviluppati i prodotti contengono soia, mais, colza, geneticamente modificati e gli OGM stessi servono a nutrire il bestiame di cui noi consumiamo i prodotti in Europa l'etichetta è obbligatoria quando gli alimenti sono di origine vegetale ma non quando sono di origine animale ma queste informazioni sono riportate con caratteri molto piccoli manca la trasparenza che permetta al consumatore di scegliere liberamente o di poter scegliere liberamente dei prodotti senza OGM e contribuire allo sviluppo di un'agricoltura di prossimità favorendo la biodiversità e favorendo l'autonomia finanziaria dei contadini e a ridurre la pressione delle multinazionali